E ciao a tutti ragazzi, sono io DefinitiveX per questo nuovo tutorial su come utilizzare AAA logo Logo, ecco Allora, dato che io dovevo creare un logo per la S Gaming, perché quello che hanno adesso è un po' grezzo Stile Tron, non so se l'avete visto E volevano creare proprio un logo con AAA logo che sia trasparente In modo tale da non essere troppo ingombrante nei video Allora, una volta installato, scaricato e installato AAA logo, io ho il 2009 Vediamo subito 2009 Lo apriamo e come avete visto, aspetta ve lo faccio rivedere AAA logo Dai su AAA Eccolo Compare una finestra, ecco come questa, dove potete scorrere dei loghi predefiniti C'è scritto qui sotto Cliccate ESC per far partire un progetto in bianco Premete ESC e parte Allora, questo non è il tavolo da lavoro vero e proprio Il tavolo da lavoro si ingrandisce a seconda della dimensione che date alle icone che portate sul tavolo, sul progetto Allora, a me serve questo Allora, come potete vedere in questo pannello a sinistra ci sono tutte le icone che cliccando sulle freccettine cambiano di pagina Icons Scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5, eccetera Countries, cartoon, cartoon, nature, fantastic, esoteric, con dei numeri, dei simboli astrali Per vederli meglio dovete andare su Object New Image Comparirà un classico quadrato Cliccate Select Shape from Library E vi farà vedere questo pannello qui di prima, però più grande, dove ve lo potete vedere senza scorrere sotto e sopra Molto più comodo così Una volta scelto lo cliccate, cliccate OK E lo modificate, grandezza, dimensioni, rotazione, eccetera, no? Colore, ecco, è OK Ma adesso a noi non ci serve Allora, per aumentare la dimensione della foto senza andare su proprietà immagine Dovete posizionarvi qui nella piccola anteprima a destra Vedete che il mio mouse si trasforma in un più e in un meno Tenendo premuto e spostando il mouse, trascinandolo verso sinistra, ingrandisce l'immagine Verso destra rimpicciolisce E così vi potete regolare della dimensione Allora, io lo faccio un pochino grande perché così almeno quando viene rimpicciolito si vede bene Invece se lo faccio piccolo poi magari l'ho fatto troppo piccolo si vede sgranato Allora, lo faccio grosso così Ci scrivo SGaming Qui sopra SG Quindi, Object New Test Allora, nel pannello File ci sono le solite cose di tutti i programmi Save Logo Image Nuovo progetto Nuovo da Template Che sono quelli che avete visto prima Progetti predefiniti Magari ne importate uno alle modificate Carica progetto Salva progetto Esporta logo per il web Esporta per la stampa Importa immagine Setup per la Impostazioni per la stampa Canvas Properties Che è meglio non toccare Edit Undo Vabbè, solite cose Vai avanti e vai indietro Copy Logo in My Logo Image Background Color Scegliamo il colore Che vogliamo utilizzare Io preferisco bianco Anche se alla fine verrà trasparente Se mettete bianco Poi Eh, ti stavo parlando Reflection Se vogliamo dare il riflesso Alla Alla nostra immagine Oppure Logo Image Scegliamo L'immagine da mettere come sfondo Object New Test Aggiungi un nuovo testo Cliccando qui è possibile scorrere Tutti i font disponibili per l'utilizzo Io uso sempre questo Adventure Subtitles Eh, quindi SG Se ci fate caso È proprio La dimensione È il carattere Perfetto Che viene usato Tuttora Dall'S Gaming Ok Però facciamo conto Che io lo voglio Fare semi trasparente Con lo sfondo di azione trasparente Quindi un colore Non ingombrante Quindi per il Per il caso Faremo un verde Mezzo grigio Tre verde e grigio Ok E anche la foto La foto Image Un Un grigio Così In modo tale Da non essere troppo Pesanti Shape Shape Vi fa vedere un'altra foto Effects Possiamo decidere Se fargli avere un contorno O no O un'ombra O no Io decido di Meglio con O senza Meglio con No Meglio senza Vabbè dai Meglio con Meglio con Così Poi SG Effects Shadow Ehm Un po' più scuro Ok Perfetto A questo punto Noi una volta Scelto Le immagini Possiamo Andare su questa piccola Sezione Questa piccola riga Dove ci sono tutti degli effetti Testo Per modificare il testo Effetti Per modificare gli effetti Del contorno E dell'ombra Gradient Per fare Un Una sfumatura Tra un colore E un altro In questo caso Allora io approfitterò Per scegliere Una sfumatura Verde acqua Ecco Sembra sul Sul grigio Ok Ok Gradient Transform Se vogliamo Farlo rotare Oppure per Farlo Muovere Come si dice Bend Roteare Su un punto fisso Transform Era quello Colors Vabbè Colors Il colore normale Se cliccate su questi Colori qui sotto Vi danno Dei colori Predefiniti E un Un Un'impostazione Predefinita Di Di blu Con tanto di Contorno E ombra Predefinite Cioè Ognuno ha una cosa Per particolare Per conto suo Se voi scorrete Qui Ne vedete di tanti tipi Ok Detto questo Cos'altro c'è da dire Window Se vogliamo Far comparire Più foto Nello stesso tempo E una volta finito Il nostro Logo Dobbiamo semplicemente Andare su file Save logo image E scegliere Da qui Il nostro La nostra estensione Del file In questo caso A me serve Con lo sfondo Trasparente Sceglierò PNG Quindi Spunterò Transparent Background E Dimensione Va bene così Continue Scrivo il nome SG Watermark Che in inglese Significa logo Watermark Head E Ho salvato il logo Il progetto Non l'ho salvato Ed ecco qui Il nostro logo Andando ad aprire Cantasia Andando su produce Se avete problemi Con Cantasia Guardate La mia sezione Su Cantasia Mi tutorial Guido tutorial Andate su produce Mettete Formato MP4 Andate avanti E quando vi chiede Il watermark Mettete questo E scegliete L'opacità Secondo delle vostre Esigenze Per questo tutorial È tutto Spero di esservi Siete d'aiuto Per qualunque cosa Non esitate a lasciare Un commento A mandare un messaggio Personale Appena avrò tempo Vi risponderò Ovviamente E non dimenticate Di iscrivervi A DefinitiveX E a S Gaming Perché mettono Ogni giorno Dei video Bellissimi Detto questo Ci vediamo Al prossimo tutorial E ciao a tutti Buona giornata Ciao Ciao